Che stupore, quando invitato a casa a vedere la cameretta nuova dei figli, intuisco l'impegno di mamma e papà nel farsi carico dei bisogni di tutti i figli. Quante rinunce, quanti sacrifici per loro. Nei figli, cari genitori, avete generato la vostra speranza, consapevoli che essi non vi appartengono. I figli, che dono, che responsabilità, che gioia. Adorate i figli, amate, rispettate ed aiutate i genitori. Dona Santa Famiglia di Nazareth ai papà e dalle mamme del mondo la consolazione e sostienili nelle preoccupazioni. Dona ai figli la capacità di essere obbedienti e riconoscenti per il bene che continuamente ricevono.